Un gruppo di alunni della scuola Carducci di San Cataldo ha realizzato delle raffigurazioni su pannelli nel progetto Imparo facendo mai in operosi. In particolare si tratta della riproduzione di una pittura dell'artista Mauro Fornasero intitolata Sicilia Terra di Sole e Colori e di una mappa composizione che esalta le bellezze paesaggistiche e artistiche della Sicilia. Uno dei due pannelli è stato collocato nel plesso Balsamo e l'altro nel plesso Carducci dell'istituto. Il progetto, oltre che dal dirigente scolastico Salvatore Parenti, è stato portato avanti dalle insegnanti Natalia Viscuso ed Emanuela Trobbia. Con gli alunni Rosario, Gaia, Ludovico, Giorgio, Denise, Emanuele, Vincenzo ed Emili hanno collaborato Leandro Ianni, Elena D'Angelo, Bianca Torregrossa, Saverio Mangione, Mariangela Nardella, Stefania Lentini, Katia Anzalonia, Floriana Ferrara, Roberta Scarciotta e Carmela Messina.